In questo video ti parlo delle 7 cose che non sai sul montacarichi industriale. Segui il video fino alla fine, scova il codice che ti dà diritto al 3% di sconto sui nostri carrelli. Io sono Gio Santonastase, sigla! I montacarichi sono sollevatori industriali fissi, possono portare solo merce o trasportare anche le persone. Possono essere derivisi in tre grandi famiglie. 1. Il montacarichi monocolonna con portata variabile da 300 a 2.500 kg. Montacarichi multicolonna per maxi portate da 3.000 a 5.000 kg, montacarichi a scomparsa. I settori applicativi sono svariati e la maggior parte dei nostri clienti appartiene a queste categorie. Logistica, industria chimica, settore alimentare, automotive. 3. Prima di installare il montacarichi bisogna assicurarsi che la parete di appoggio sia portante. 4. Bisogna decidere se l'alimentazione sarà 220 o 380. 5. Bisogna decidere quali saranno le entrate e quali le uscite. 6. Bisogna installare delle protezioni al piano inferiore, va bene anche una griglia in rete. 7. Al piano superiore bisognerà installare delle protezioni alte a metro o meno 1 metro e 40. 7. Se non hai un muro portante non disperare, costruiremo un castelletto a sostegno in acciaio. 8. Scegli fra svariate tipologie di porte, classiche, avvolgibili, scorreboli, quello che vuoi. 9. I nostri montacarichi sono dotati di ganci che si innestano nel muro garantendo grande stabilità ed evitando di scaricare il peso sull'impianto idraulico. 10. Desideri un montacarichi chiave in mano? Tuttologistica.it può fornirti un montacarichi personalizzato chiave in mano. Contattaci! Il codice sconto di oggi è MONTA373 Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Io sono Gio Santonastase e questa è Tutto Logistica. Ciao!